Noi stiamo spiegando attraverso il menù di degustazione il concetto di contrasto che si deve essere da un piatto e l'altro. Poi fate i cavoli vostri, ovvero meno quello che vi chiede il mercato. Noi dobbiamo essere anche, insegnare alla gente, trasmettere e gli spiego le motivazioni per le quali io arrivo a fare il menù di degustazione così. Grazie a tutti.